Il presidente Franco Iachini venerdì scorso in occasione della presentazione del piano economico finanziario all'amministrazione comunale che ha molto apprezzato questa iniziativa sul futuro del Teramo è stato chiaro agli organi di informazione ogni discorso di carattere tecnico e sui programmi della prossima stagione saranno presi solo quando ci saranno eventuali novità sul fronte societario e come dire prima il futuro della società poi le scelte sulla squadra. Secondo indiscrezioni il padrone sta continuando a portare avanti le trattative con diversi gruppi imprenditoriali di fuori regione sia nella capitale che con imprenditori del nord Italia ma nel massimo riservo come è giusto che sia. In ogni caso se queste trattative porteranno a sviluppi concreti lo si scoprirà nei prossimi giorni. Il presidente è inoltre specificato che nel caso in cui ci saranno nuovi ingressi in società le valutazioni sulla squadra dovranno essere condivise con gli altri potenziali soci o addirittura lasciare loro ampia autonomia sulle scelte tecniche. Domani sarà una giornata decisiva per il presidente il quale attende l'approvazione del piano economico finanziario e consiglio comunale che potrà contare sulla maggioranza dei voti nonostante una sparuta minoranza nutra ancora qualche perplessità. Sul fronte mercato uno dei giocatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e Carlo Ilari 29 anni compiuti autore di sette reti nella stagione che si è appena conclusa e nel mirino del Cesena ma piace pure alla Triestina che già a gennaio aveva provato a strapparlo ai biancorossi. Anche la mezzala Costa Ferrera reduce da una stagione positiva sei gol e diversi assist è in attesa di capire come la situazione societaria si evolverà prima di prendere in considerazione altre opportunità per il suo futuro. Il terzino sinistro Alberto Tentardini è stato attenzionato da Ternana e Catanzaro. Infine il DS Sandro Federico è in scadenza ma non è da escludere la possibilità di un rinnovo in extremis con il Teramo.